Oggi direzione San Raffaele, vediamo un po' come va questa avventura, io sono molto positivo a quanto pare hanno il reparto di allergologia più grande e sarà una grande giornata Let's go! Sto aspettando l'accettazione Mi hanno detto che no, io sono un po' sbagliato, che questa non è l'accettazione giusta e che io prima, nonostante abbia la prenotazione online, devo andare al tendone C'è un tendone che è una cosa un po' triste qua, dietro di me, che a quanto pare fa l'accettazione Quindi adesso proviamo a sentire cosa ci dicono all'accettazione Primo tendone che, vabbè, non so se erano messo per il covid o quello che è Una seconda accettazione dove dovrebbero darmi giorno la prenotazione prevista dal medico e poi c'è una terza accettazione dove va per poi poter vedere il medico Solo che queste cose non è che siano chiarissime Mi parla tra almeno un anno Qui a San Raffaele l'esperienza dell'accettazione è incredibilmente mal organizzata Ci tengo a far notare che io ho ricevuto in tre istanze direzioni sbagliate con la mia prenotazione, la cosa in mano in modo che potessi mostrare che questo è ciò che io devo fare È evidente che qui ci sia una mancanza di comunicazione e in generale di linee guida che dovrebbero essere uniformi per tutto il personale A livello di operazione con il cliente potrebbe essere tutto fatto molto meglio Grazie! 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 Grazie!